Quando Varenne è soprannominato il capitano e è sceso dal camion che lo ha accompagnato in riviera è stata un'emozione per tutti. Agli appassionati di Ipica sono subito venute in mente le corse e le vittorie leggendarie di questo campione. Ieri sera all'ipodroma dei Fiori di Villanova dal Benga gli applausi sono stati tutti per questo cavallo fuoriclasse, che ha vinto tanto, quasi tutte, e continua a destare emozioni ancora oggi. Varenne è stato il più grande trottatore mondiale di tutti i tempi. Tonico, magro, rilassato, attento, il fuoriclasse è apparso in grande forma davanti agli occhi incuriositi di chi lo ha seguito con passione. Ha corso l'ultima gara il 28 settembre 2002 a Montreal in Canada e d'ora viene accudito amorevolmente da Anna Crespo, la tata che si occupa di lui da 15 anni. Varenne ha vinto davvero 62 corse su 73 disputate, è stato insignito del titolo di cavallo dell'anno in tre differenti nazioni, in Italia 2000-2001-2002, in Francia 2001-2002 e negli Stati Uniti 2001. Da 15 anni Varenne è in pensione nell'allevamento di Grifone a Vignone in provincia di Torino.